Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono qui oggi a farvi un video su quello che è un argomento ricorrente. Mi avete fatto più volte delle domande sia nei commenti sia via messaggio diretto riguardo all'illuminazione e alla strumentazione che utilizzo per registrare i contenuti che vi propongo. Andiamo quindi a vedere pezzo per pezzo che cosa utilizzo e come ho allestito il setup per creare l'illuminazione che vi propongo nella maggior parte dei contenuti. Certe cose le conoscete già perché ve le ho già presentate in dei video precedenti. Qui per esempio abbiamo il mio microfono che è un microfono Blue Yeti, un microfono con cui devo dire mi sto trovando parecchio bene perché ha le caratteristiche giuste per riprendere la mia voce in uno spazio di questo tipo. Più sto vicino al microfono e minore sarà il riverbero della stanza, quindi questa è una cosa molto importante. Spessissimo mi capita che mi venga chiesto come faccio ad avere un audio più pulito in una stanza non trattata. La mia stanza è parzialmente trattata. Dovrei anche mettere un tappeto per attuttire ancora di più e mettere qualche pannello in più sui muri. Tenete conto che i pannelli sui muri fanno tantissimo, i pannelli negli angoli, sul soffitto e pavimento fanno tantissimo. Se ovviamente non avete voglia di trattare la stanza perché è comprensibile, se state magari registrando in casa magari non avete voglia di fare un investimento che non è neanche bassissimo, un investimento di denaro e oltretutto un investimento sull'immobile perché sostanzialmente state adibendo una stanza a questa funzione e sarà difficile poi farci dell'altro in questa stanza perché una stanza trattata diventa una stanza in cui difficilmente si pranza o si cena. Quindi è proprio un investimento di spazio perché stiamo dedicando uno spazio solamente a questa funzione. Se non abbiamo voglia di farlo, giustamente, si può mettere una pezza e sicuramente un tappeto aiuta perché un tappeto andrà ad assorbire molte frequenze e quindi arriveranno meno suoni indesiderati al nostro microfono. In ogni caso, anche in mancanza di trattamento, anche in mancanza di tappeti, in mancanza di pannelli, il trucco migliore che vi posso raccomandare è di stare più vicini possibili al microfono perché più vicini state, più il microfono catturerà bene la sorgente che è la nostra voce. Più stiamo lontani, più questa sorgente sarà mista al riverbero della stanza. Ovviamente se noi ci allontaniamo dobbiamo alzare il volume, se invece ci avviciniamo il microfono ci prende meglio quindi possiamo abbassare il volume. La nostra voce è più forte del riverbero ambientale perché è essa stessa che genera il riverbero ambientale, quindi nel momento in cui noi andiamo ad abbassare il volume del microfono stando più vicini avremo automaticamente un segnale più pulito. Per quanto riguarda l'illuminazione, io qui sono illuminato da una luce che vedete che è molto vicina perché appena mi avvicino vedete che la mia mano diventa praticamente bruciata. Sono illuminato da una luce che è una Godox SL60V, è una luce con cui devo dire all'inizio ero un po' scettico ma adesso invece mi sto trovando molto bene. Il motivo per cui ero scettico è fondamentalmente che è una luce che fa un po' di rumore, è una luce che produce un po' di ronzio. Nel silenzio della stanza si sente un po' di rumore prodotto da questa luce e quindi all'inizio ero molto deluso perché comunque pensavo che per certi tipi di contenuti potesse andare bene ma per certi altri questo rumore sarebbe sempre stato in ripresa, sarebbe sempre stato una fonte di fastidio. In realtà devo dire che con questo setup, con il microfono messo da questa parte, la luce messa da quell'altra parte col microfono impostato su cardioide, quindi impostato per prendere principalmente in questa direzione escludendo il retro, devo dire che ho zero problemi nel senso che questo fruscio che io sento con le mie orecchie ma poi in video non c'è, non viene minimamente registrato dal microfono, non viene minimamente percepito quindi non lo reputo un problema perché non sussiste, lo sento io con le mie orecchie mentre faccio le riprese ma poi non viene percepito in ripresa e quindi va benissimo così. La luce ovviamente non è utilizzata da sola, la cosa più importante in assoluto di cui vi posso parlare oggi sono i modificatori in realtà e andiamo a vedere che modificatore c'è su questa luce perché questa è una luce molto dura se utilizzata senza un modificatore, come la maggior parte delle luci le luci flash e le luci comunque a bulbo diciamo che producono una luce che non è mai perfetta così com'è noi andiamo a perfezionare la luce dalla nostra fonte luminosa con i modificatori per cui abbiamo una parte che è la lampada, la lampada ci dà l'emissione luminosa ma poi per avere una qualità luminosa che deve essere la qualità che vogliamo noi mettiamo un modificatore, metteremo un modificatore diverso a seconda di quello che vogliamo ottenere in questo caso io sto utilizzando un beauty dish la scelta del beauty dish è molto ragionata, nel senso che non è il mio modificatore preferito se io avessi dovuto scegliere il mio modificatore preferito avrei magari scelto un octabox un pochettino più grande ma perché ho scelto il beauty dish? Perché è piccolo quindi a parità di qualità di luce, perché fondamentalmente la qualità della luce che io ottengo con il beauty dish è paragonabile a quella che otterrei con un softbox non è esattamente la stessa cosa, il softbox dà un effetto lievemente diverso e avrei preferito l'effetto di un softbox però il mio studio non è grandissimo e quindi ho preferito il beauty dish perché mi sono detto questo mi dà una luce che comunque va bene, si avvicina molto a quello che vorrei è molto più piccolo, occupa un terzo dello spazio quindi mi permette di lavorare meglio mi permette di occupare meno spazio all'interno del mio setup, mi permette di avvicinarmi di più con la luce in questo modo riesco ad avere un setup più compatto, con meno dispersione riesco anche a tenere più bassa la potenza della mia torcia perché se avessi avuto un softbox più grande avrei dovuto tenerlo più lontano, avrei dovuto alzare la potenza invece in questo modo riesco a tenere la potenza relativamente bassa in questo momento sto utilizzando questa luce con una potenza del 30% quindi è bassa ovviamente più alziamo la potenza più la ventola di raffreddamento entra in funzione quindi produce più baccano, se io riesco a tenerlo a 30% e non di più la ventola produce un rumore che è assolutamente tollerabile e non mi entra in ripresa se invece io vado ad allontanare la luce e la metto a 100% lì la ventola comincia ad andare che sembra un motoscafo quindi bisogna anche capire la propria strumentazione e cercare di farla rendere al meglio in maniera tale che non crei problemi che una luce che produce tanto baccano poi si sente in ripresa invece se riusciamo a tenerla bassa non si sente in ripresa e quindi non ci crea nessun tipo di problema ovviamente se abbiamo un altro tipo di modificatore se al posto di un beauty dish stessimo utilizzando uno streetbox oppure un softbox più grande oppure un octabox diciamo che non cambierebbe tantissimo l'importante è che riusciamo a farlo stare nel nostro setup in questo caso io utilizzo il beauty dish anche proprio per una questione di spazi perché per come piace a me collocare la luce ovvero in questa posizione la fotocamera è qui, la luce è qui se io avessi utilizzato un modificatore più grande in questa posizione arriverebbe a coprirmi parzialmente la ripresa invece il beauty dish è piccolo è limitato a quest'area quindi finisce lì e riesco a fare questa ripresa senza nessun problema è un modificatore che è molto molto comodo secondo me si chiama beauty dish perché viene molto utilizzato per i ritratti soprattutto in ambito beauty perché ha un effetto se usato in una certa maniera di togliere le ombre dal viso vedete che io l'ho usato in tutt'altra maniera se l'avessi posizionato centrale mi starebbe sostanzialmente togliendo tutte le ombre dal viso ma io l'ho posizionato laterale in questa maniera ottengo una luce fondamentalmente split è una mezza Rembrandt, una mezza split a seconda di come mi muovo dopodiché sono andato a utilizzare queste queste qui sono due lucette Godox RGB a mio parere invenzioni assolutamente geniali che consentono di lavorare in scioltezza e produrre un effetto colorato molto carino mi servo di queste luci semplicemente perché sono pigro perché la soluzione professionale dovrebbe essere questa dovrebbero essere i color gel puntata molto smr sentite che rumori questi qui sono dei fogli se io vado a posizionarli davanti alla mia luce vedete che danno una colorazione adesso bisognerebbe farlo bene e non ci arrivo però la sostanza è se io prendo questi fogli trasparenti colorati e li posiziono davanti alla mia fonte luminosa avranno due effetti il primo è che mi taglieranno metà della luce quindi dovrò aumentare la potenza il secondo effetto è che è la poca luce che continua a passare attraverso prenderà la colorazione del foglio che abbiamo utilizzato esistono fogli di tantissime colorazioni diverse quindi il modo più professionale in assoluto di creare i colori in camera è questo si prendono i color gel si applicano sulla nostra fonte luminosa con delle mollettine con delle graffette anche le mollette da bucato vanno bene senza stare a comprare altro i fogli si comprano su Amazon oppure in un qualsiasi negozio di fotografia non costano tanto ci sono diverse dimensioni e ci sono tantissimi ma veramente tantissimi colori perché questi fogli servono anche per modificare la luce ambientale quando si fa per esempio fotografia di interni se io fotografo una scena di interni e quindi ho della luce a incandescenza che sta nell'interno e poi ho una finestra da cui invece entra della luce fredda quindi abbiamo luce calda luce fredda potrei decidere di mettere un gel freddo sulla mia luce calda in modo da bilanciare quei due colori e avere il colore più neutro possibile in camera questa è una cosa che si fa molto spesso perché avere una scena di interni con delle tinte sbilanciate quindi metà gialla e metà blu può essere carino in certi casi ma la maggior parte delle volte non è quello che vogliamo noi vogliamo una scena più neutra possibile quindi andremo a utilizzare delle gradazioni particolari di colore di questi gel per andare a bilanciare la nostra scena questo ci dice che abbiamo a disposizione un'infinità di colori possiamo usarne veramente tantissimi quindi se vogliamo utilizzare che ne so il rosa sicuramente esiste il foglio rosa vogliamo utilizzare il blu esiste il foglio blu io ho il blu e il rosso allora perché sono passato alle luci rgb di Godox? beh per un motivo semplicissimo perché sono comodissime mi fanno risparmiare un sacco di tempo perché non devo più stare a montare una luce montare il paraluce montare il gel attaccare la spina non devo più fare tutto questo io devo semplicemente prendere la mia lucetta caricarla perché funziona la batteria la carico la metto sul cavalletto fine gli ho già detto di che colore devono essere ho bilanciato i colori in base a a quelli che sono i colori che piacciono a me e una volta che le ho impostate in questo modo la distanza più o meno è sempre a quella le lascio così e funzionano sempre basta accenderle devo ricordarmi di caricarle o se no le attacco direttamente alla corrente ma preferisco tenerle senza fili così lo studio è più agevole ci sono meno cavi tesi e si lavora molto meglio devo dire che scaldano poco perché tutte queste luci sono tutte luci che non scaldano non sono lampadine di vecchia concezione sono lampade moderne quindi hanno una produzione di calore che non dico che è pari a zero ma poco ci manca considerato che io le tengo accese per mezz'ora, 40 minuti, un'ora e comunque tirano 40 minuti queste luci anche se sono a batteria potenza 100% tirano 40 minuti sicuro e scaldano comunque poco perché sì non vi dico che sto bene perché comunque fa caldo non è un bel momento per avere delle lampade accese puntate addosso però lavorando in passato con delle luci a incandescenza anche in studio vi posso dire che queste scaldano poco cioè è un setup con cui si lavora abbastanza bene anche in estate io ho caldo ma quella è una cosa mia io ho sempre caldo però non sto crepando vedete che non sto sudando non sono bagnato sono sì per carità c'è un po' di umidità ma sono abbastanza tranquillo non scaldano anche se sono abbastanza vicine perché sono comunque condensate in un metro quadrato sostanzialmente però non scaldano la situazione non è insostenibile quindi è un setup molto comodo per quanto riguarda la strumentazione che sto utilizzando per riprendere in questo momento sto utilizzando la Canon EOS R con il meraviglioso 24-105 f4 serie L una lente che mi piace molto veramente molto perché come qualità ottica e come costruzione è veramente fantastica Canon in questo si è veramente superata nel senso che è un bel prodotto questo è veramente un bel prodotto Canon EOS R è una signora videocamera nonostante quello che dicono perché comunque ne ho sentite di tutti i colori è una fotocamera che non va bene è una fotocamera che sottoperforma è una fotocamera che è uguale alla 5D Mark IV non hanno cambiato niente è solo un corpo mirrorless con le specifiche vecchie della Mark IV allora a me lì scatta una campanella e dico Mark IV veramente mia 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 la voglio la Mark IV è la mia fotocamera preferita in assoluto fotocamera perché le reflex erano ottime per fare foto le mirrorless sono eccezionali per fare video infatti questa per me questo è è una videocamera io non ho mai scattato una foto con la Canon EOS R e non credo che lo farò perché non mi interessa perché per fare foto per carità le fa bene non è quello il punto ma è che non mi piace non mi piace andare in giro e scattare con la fotocamera come se fosse uno smartphone proprio non mi piace io voglio guardarci dentro per fare la mia composizione perché mi dà una connessione diversa con il mio soggetto piuttosto che tenerla in mano e fare così alla gangster diciamo che non mi piace non mi trovo e quindi quando io uso la mirrorless la uso solo rigata solo su cavalletto solo per fare video quando uso quando faccio fotografia uso le mie vecchie reflex che funzionano ancora benissimo con tutto il mio parco lenti EF che funzionano ancora benissimo e mi danno i risultati che mi servono e indubbiamente un giorno si romperanno perché prima o poi capita e quel giorno mi sentirò morire dentro però quel giorno magari mi prenderò una R5 una R6 per proseguire comunque in un'ottica di massima qualità possibile in ambito mirrorless perché per forza però finché posso scegliere preferisco avere dei corpi macchina che mi stanno meglio in mano perché per esempio per quanto mi piaccia la Canon EOS R io non la tengo mai in mano non mi piace da tenere in mano non che sia scomoda però è piccolina è piccolina a me piace i corpi macchina grossi preferisco la 5D perché quella mi riempie proprio bene la mano questa qui essendo un po' più piccolina sì ci sta un'ottima ergonomia però è un po' piccola per me è un pochettino piccola infatti la uso sempre su tre piede come in questo momento per quanto riguarda le impostazioni in camera ovviamente devono essere bilanciate per quella che è l'illuminazione che volete per quella che è la scena che avete di fronte io vi dico una cosa per ottenere questo mood ovviamente io giro a ore diverse del giorno della notte perché mi capita di girare nei momenti più disparati non ho un momento sì cerco di avere un momento che è sempre quello perché è per un ordine mentale mio però non sempre ci riesco a volte mi vengono in mente ah devo fare un video su quell'argomento lì che è fighissimo lo devo fare adesso perché è un argomento stagionale allora magari lo faccio in un altro momento quindi quello che faccio è che oscuro la stanza tiro giù le persiane in maniera tale che questa sia la mia illuminazione non c'è illuminazione parassita chiamiamola così proveniente da altre parti in questo modo io quando spengo tutto e ho le mie luci ho sempre la mia illuminazione è sempre uguale questo è molto importante perché altrimenti a ogni video avete un mood diverso un'illuminazione diversa e le impostazioni della camera parimenti cambierebbero ora io ho il mio setup con le luci che sono sempre impostate nello stesso modo perché le due RGB sono sempre a 100% e la la main light che è la la Godox SL60V è sempre al 30% circa quindi ogni volta io posiziono le luci più o meno nello stesso punto guardo in camera l'esposizione guardo l'istogramma che vedo in camera e c'è una cosa che ha sempre un po' di variabilità che è il posizionamento delle luci è il posizionamento mio perché una volta potrei essere qui un'altra volta potrei essere qua e questo cambia cambia tanto perché per la legge dell'inverso del quadrato se io mi avvicino mi allontano a una fonte luminosa cambia tutto non vi chiedo di credere a me ve lo dimostro guardate bene la parte illuminata del mio viso allora io adesso sono illuminato e è giusto è corretto perché ho fatto l'esposizione per questa distanza guardate cosa succede se mi avvicino alla fonte di illuminazione vedete che via via che io mi avvicino sempre più chiaro sempre più chiaro qui non va bene qui non va più bene perché è troppo sono troppo illuminato adesso così non è più corretta l'esposizione se io fossi stato a questa distanza dalla luce avrei gestito diversamente le impostazioni di camera se io invece sto qui l'esposizione mi piace di più match a quello che è il mio gusto match a quello che è il mood che volevo per questa scena vedete la mia mano vedete che man mano che io mi avvicino alla luce è sempre più brillante sempre più brillante a questa distanza non va bene quindi la distanza tra quello che stiamo riprendendo e le luci è molto importante nel momento in cui io ho le mie luci con una potenza che non tocco sostanzialmente più perché ormai ho capito che quella va bene quando mi siedo qui le sposto le sposto lievemente avanti lievemente indietro se vedo che l'immagine è bruciata la sposto lievemente avanti lievemente indietro in maniera tale che sia corretta quindi riesco sempre ad avere un'impostazione perché ho dei parametri che sono fissi in questo caso la potenza delle luci e ho un parametro che è una variabile che è la distanza perché banalmente io potrei buttarmi indietro e se io mi butto indietro vedete che sono al buio oltre che si sente meno bene perché se io mi allontano dal microfono il microfono prende meno sorgente principale prende più riverbero ambientale anche qui non vi chiedo di credermi ve lo dimostro fate bene attenzione a che cosa succede io adesso sono vicino al microfono molto vicino il segnale dovrebbe essere molto pulito io adesso mi allontano e sto anche parlando più forte perché so che stando più lontano mi si sente di meno mi sono appoggiato sullo schienale sono bello comodo e improvvisamente sono non fuori fuoco perché la fotocamera mi tiene a fuoco perché mi riconosce lo stesso però improvvisamente sono al buio e mi si sente male quindi è molto importante tenere a mente queste cose tenete conto che una minima differenza anche solo se vi buttate indietro sullo schienale potrebbe rovinarvi completamente la ripresa quando si fa una ripresa bisogna stare nella posizione in cui si sono fatte le prove quindi bisogna fare le prove nella posizione in cui poi si starà effettivamente perché altrimenti viene tutto sballato quindi bisogna farci attenzione nel momento in cui si allestisce bisogna crearsi il set intorno in maniera tale che sia comodo per come siamo abituati a lavorare quindi io so che sto più o meno in una posizione so che difficilmente andrò a stiracchiarmi o a fare cose che mi allontanano da questa posizione centrale durante la ripresa e quindi per me questo setup va bene così ovviamente se ci sono contesti in cui volete una ripresa più ampia avete bisogno magari di un backdrop più ampio di quello che ho io avete bisogno di luci che stiano più lontano e quindi che abbiano una potenza maggiore avete bisogno magari di un microfono che non stia in questa posizione ma che stia con un system che stia posizionato sopra di voi appena fuori dalla ripresa in questo modo riuscite a non avere il microfono in ripresa e magari riuscite ad avere un microfono panoramico che prenda direzionalmente la situazione in cui vi siete posizionati ma con un minimo di agio che vi possiate muovere da una parte all'altra questo microfono di agio ce ne ha e io l'ho impostato su cardioide quindi prende solamente da davanti ma io potrei anche impostarlo stereo in maniera tale che prenda tutto intorno la qualità sarebbe peggiore perché prenderebbe tanto riverbero anche sul lato opposto quindi non è quello che voglio però la maggior parte dei microfoni ci consente di giocare su questa cosa ovvero di decidere che se stiamo fermi possiamo usare il cardioide mentre se ci spostiamo molto o se siamo in due possiamo dire al microfono di prendere più direzioni possiamo dire di prendere fronte e retro o di prendere 360 tutto intorno quindi i microfoni in questo ci vengono molto in aiuto e riusciamo a gestire una grande varietà di situazioni anche semplicemente con lo stesso microfono ora per una questione di comodità mia perché io sono molto pigro e voglio continuare a rimanerlo questo microfono entra direttamente nella fotocamera perché è un microfono usb che quindi è connesso a un computer o a una presa di corrente e ha un cavo cuffie che esce dal microfono e che può andare effettivamente a delle cuffie nel senso che io potrei ascoltarmi mentre vi parlo qualcuno lo fa perché magari qualcuno che gioca con i suoni che accarezza il microfono che fa suoni particolari ha bisogno di sentire quello che sta facendo per una sensazione migliore per controllare che non si stia che non stia clippando l'audio per controllare di non stare facendo suoni troppo forti quindi in certi casi uno può attaccarsi le cuffie e ascoltarsi a me non interessa ascoltarmi perché io ho fatto delle prove di volume e quindi so più o meno il volume a cui sto registrando perché ho impostato il microfono in un certo modo e ho impostato l'uscita cuffia in un certo modo e ho impostato l'ingresso della mia videocamera in un certo modo quindi io so a che volume sto registrando quindi non ho bisogno di ascoltarmi e siccome sono pigro l'uscita del mio microfono va direttamente nella mia videocamera questo significa in parole povere che io una volta che importo il mio video in post produzione non dovrò più fare il battito di mani e andare a sincronizzare l'audio con il video sapete che normalmente quando si registra in un contesto come questo è vero che la videocamera ha un microfono interno continuo a rimandarvi al mio video su come si registra l'audio perfetto per i vostri video vi lascio la card andatevi a vedere quel video perché spiego tutto questo in maniera un pochino più approfondita il concetto qual è è vero che le videocamere hanno un microfono ma quel microfono è inutilizzabile per tutta una serie di motivi che sono fisici proprio quel microfono è completamente inutilizzabile perché è un microfono pensato per darti sì una cattura audio di quella che è la scena ma che è un audio che non viene utilizzato poi nel prodotto finale il prodotto finale viene microfonato con un microfono vero quindi prodotto finale l'acquisizione audio è questa la cattura audio del microfono della videocamera serve per avere la possibilità di sincronizzare le due sorgenti quindi ho la sorgente vera e la sorgente test diciamo la sorgente test mi serve per sincronizzare con questa quindi io batto le mani per quello perché così vedo il picco nella forma d'onda e so che devo allineare il battito di mani dentro nella mia timeline ora devo dire che Premiere lo fa in automatico nel senso che io seleziono la sorgente audio acquisita dal microfono e seleziono il mio video gli dico sincronizza in base all'audio e Premiere lo trova da solo il battito di mani e me lo fa collimare a quel punto posso spegnere l'audio della fotocamera e mi rimane l'audio del microfono però il fatto di avere il microfono che entra direttamente nella fotocamera significa che viene bypassato il microfono della fotocamera e l'acquisizione audio avviene direttamente con il mio microfono che ho scelto che in questo caso è il Blue Yeti potrebbe essere un Rode potrebbe essere uno Shotgun potrebbe essere un Lavalier potrebbe essere qualsiasi tipo di microfono io potrei entrare con qualunque microfono nella mia videocamera e avrei la sorgente audio registrata in quel modo ora nel cinema e negli spot pubblicitari c'è un operatore si chiama Boom Operator che è un omino poverino che sta lì con un bastone in mano con questo microfono che casca proprio qui sta proprio qui davanti alla ripresa lievemente fuori in maniera tale che non si vede e questo microfono ha proprio la caratteristica di riprendere bene quello che la persona sta dicendo ma rimanendo invisibile rimanendo fuori dalla scena questo si può fare con un Seastand cioè con un'asta con un braccio che arriva sopra la nostra scena e sta fuori dalla medesima se siamo in un contesto statico invece se siamo in un contesto dinamico per esempio se io camminassi in giro e volessi una microfonazione di quel tipo ci vorrebbe un Boom Operator un operatore che mi cammina dietro e che tiene la giraffa in maniera tale da riprendere il mio audio senza entrare in ripresa ovviamente quello genera tutta una serie di complicazioni che qui non ci sono e che qui infatti non affrontiamo qui siamo in un contesto di audio sostanzialmente invariato quindi non ci sono variazioni di audio qui io tengo sempre lo stesso volume di voce lo faccio non per sembrarvi monocorda o per farvi vedere quanto sono bravo a essere monocorda lo faccio per una questione di volume e di dinamica perché se io per esempio vado a cambiare tono di voce parlo piano 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 così voi fate fatica a sentire quindi è sbagliato da parte mia fare dei cambi di voce di quel tipo e questo ce ne si rende conto con l'esperienza se vedete in televisione i giornalisti non lo fanno i conduttori televisivi non lo fanno non lo fanno mai perché sanno benissimo che se fanno dei cambi di volume dei cambi di quel tipo o sono programmati è un evento magari in cui hanno programmato un cambio di tono di quel tipo allora sanno che c'è un mixerista che gestisce la cosa e nel momento in cui oppure si avvicinano al microfono nel momento in cui uno dice voglio abbassare la voce voglio parlare molto più piano adesso ma veramente molto più piano però mi avvicino al microfono la cosa viene compensata se io torno ad allontanarmi rialzo il volume della mia voce e quindi rimane costante parimenti io non posso alzare di tanto il livello della mia voce perché se io lo alzo tanto diventa sgradevole magari va anche a clippare quindi è una cosa che non bisognerebbe mai fare bisogna tenerne conto lo so che diventa un pochino monocorda il video in questo modo però l'effetto finale vi assicuro che è meglio perché se io continuo ad avere sbalzi di volume diventa difficile per chi mi guarda seguire invece se il mio volume è sempre uguale tanto c'è anche da dire che questa è un'esposizione sostanzialmente che vi sto facendo di cose che mi capitano di materiali che utilizzo quindi non ho bisogno di metterci l'enfasi cioè non è un recitato non devo fare una scena in cui strangolo qualcuno che bisogna gridare quindi non c'è bisogno di queste variazioni di dinamica e quindi tendo a non farle ovviamente nel cinema in altri tipi di produzioni ci sono ma vengono gestite magari vengono ridoppiate anche per avere situazioni di volume diverso registrate in momenti diversi con una resa ben precisa a seconda del tipo di prodotto che si vuole ottenere in questo caso io cerco di stare molto attento ai volumi che imposto e alla distanza che utilizzo perché come avete visto se io vario la distanza dal microfono cioè se io mi gratto e giro la testa dall'altra parte io adesso parlo continuo a dire sempre le stesse cose sempre con lo stesso volume però guardate che cosa succede se io mi giro dall'altra parte al di là del fatto che avete una visione meravigliosa del mio orecchio e adesso nel momento in cui torno a girarmi verso il microfono vedete che c'è una variazione di volume e anche di qualità dell'audio di pasta dell'audio abbastanza consistente perché se io sto girato di qui questa è la scena che ho fatto scena audio proprio che ho fatto io ho deciso di prelevare l'audio in questa posizione quindi così va bene anzi se vogliamo essere precisi il microfono dovrebbe essere proprio qui davanti impallato davanti alla mia bocca in realtà è lievemente laterale quindi è già un compromesso perché non voglio averlo davanti al mento quindi è già un piccolo compromesso ma se io lo uso in questa posizione va bene perché ho fatto i miei test e so che va bene se io mi giro dall'altra parte non va più bene perché adesso io sto parlando di là quindi la metà della mia emissione è sprecata e quella che torna verso il microfono è viziata dal riverbero ambientale perché picchia contro il muro e poi torna qui a tutte queste cose bisogna stare attenti quando si realizza anche una produzione video piccola perché questa non è neanche una produzione video è semplicemente un video in studio con un'illuminazione decente bisogna stare attenti a tutte queste cose perché se sono cose che gestiamo per ottenere un risultato che abbiamo in testa avremo un risultato di un certo tipo se non le gestiamo e lì possono succedere fondamentalmente due cose la prima cosa è che ci va di culo e va bene lo stesso e può succedere la seconda cosa è che viene una schifezza e comunque è drammatica in entrambi i casi perché se ci è venuta bene di culo significa che noi siamo convinti di averlo fatto bene e non ci siamo nemmeno resi conto che non l'abbiamo gestito ci è andata bene e quindi il prodotto in sé è venuto bene però non siamo in grado di replicare magari quello che abbiamo fatto e non siamo in grado di apportare delle variazioni a quello che abbiamo fatto diciamo che per quanto mi riguarda è importante gestire tutte le fasi di questo processo perché sono cose innanzitutto che fondamentalmente gestisci una volta e poi non dico che te ne disinteressi però poi devi solo replicare le gestisci la prima volta nel senso che la prima volta dici un po' di parolacce perché non ti viene tutto subito al primo colpo e poi ogni volta migliori qualcosa fino ad arrivare a una situazione che dici adesso mi piace adesso sono contento quindi adesso utilizziamo questa infatti io è da un po' che utilizzo questo setup diciamo che è importante gestire tutti questi passaggi perché se io li ho gestiti e poi voglio fare una modifica so come farla ho posizionato io ogni singolo pezzo quindi so ognuna di queste cose cosa sta facendo se le ho messe a casaccio oppure se sto usando la luce della finestra sono un po' nei guai perché non posso fare cambiamenti non posso fare variazioni sono in balia di quello che trovo questo è un problema come professionista e anche come semplicemente content creator perché se io sono in grado di modificare la mia scena posso fare cose diverse poi posso scegliere di non farlo infatti uso sempre lo stesso setup ma posso decidere di fare cose diverse se non sono capace di fare cose diverse sono un po' in balia del mio setup ed è un peccato perché noi qui stiamo creando dei contenuti e quindi sarebbe carino che questi contenuti ci rispecchiassero fossero un po' lo specchio di quello che piace a noi e quindi dobbiamo essere in grado di adattarli a quello che facciamo io per esempio magari un giorno decido di cambiare backdrop perché so che se ne metto un altro ottengo un altro effetto potrei mettere per esempio un green screen potrei metterne uno nero potrei metterne uno bianco e so che tipo di effetto mi dà e so per esempio che se ne metto uno bianco probabilmente questo setup di illuminazione va un po' rivisto non metto più questi colori sul retro ma magari metto due luci bianche sul retro per illuminare lo sfondo per renderlo perfettamente bianco per esempio ora visti i parametri di cui abbiamo parlato visti le potenze delle nostre luci che sono 100% e 30% la distanza è quella andiamo però a vedere com'è impostata la videocamera innanzitutto per fare video soprattutto per fare video la videocamera deve essere impostata in manuale perché altrimenti quello che succede è che abbiamo una lettura sempre parziale sempre sbagliata sulla nostra scena su una scena come questa per esempio vedete c'è tanto nero è molto scura come scena è scura perché l'ho fatta così la voglio così mi piace così però la mia videocamera viene lievemente confusa da questa cosa e pensa c'è tanto nero io il nero lo devo bilanciare per cui lo porto su quindi mi sovraespone tutto quanto e io vengo troppo chiaro questo è quello che succede di solito quando c'è una scena molto scura io imposto la mia videocamera in manuale quindi decido io che cosa sta facendo le impostazioni che ho dato in questo momento e che anche se me le ricordo le leggo sul display sono f4 perché tanto sto lavorando una lente da f4 e non mi è sembrato il caso di chiuderla ulteriormente f4 va bene anzi forse l'avrei usata un po' più aperta se ci fosse stata la possibilità per avere lo sfondo un po' meno presente un po' più sfocato però in questo caso diciamo che mi tocca relativamente quindi siamo a f4 siamo a un cinquantesimo di secondo può sembrarvi poco tanto ma dopo andiamo a vedere il perché siamo a ISO 320 ora questa è una fotocamera che con gli ISO non dico che puoi fare quello che vuoi ma quasi perché comunque regge molto bene gli alti ISO ovviamente più bassi li teniamo migliore sarà la nostra qualità d'immagine non mi ricordo più quali sono gli ISO nativi di questa fotocamera però mi pare di ricordare che siano 200 o 400 forse proprio 400 quindi comunque con 320 sono vicinissimo a quelli che sono gli ISO nativi di questa fotocamera che sono la sensibilità ISO a cui la fotocamera dovrebbe rendere meglio in assoluto quindi senza bisogno di stare a ISO 100 senza ovviamente andare a ISO 109000 o quel cavolo che è riesco ad avere un'illuminazione che senza pompare al 100% la mia luce principale però mi dà comunque l'illuminazione che voglio una volta che ho fatto ovviamente i parametri sulla fotocamera perché questo è importante faccio prima i parametri sulla fotocamera e poi vedo quanto allontanare avvicinare tutte le varie luci perché le luci devono servire a illuminare la scena coi parametri della mia videocamera nel video i parametri sono più importanti che nella foto perché se in una foto io posso magari dire c'è poca luce quindi sono su cavalletto aumento i tempi di esposizione me la sono sfangata così cioè una scena notturna dico 30 secondi di esposizione e viene bene lo stesso anzi forse viene meglio nel video non lo posso fare nel video i tempi devono essere ben precisi perché se io sto girando come in questo caso a 24 frame al secondo giro a 24 frame al secondo perché mi danno un look un pochino più cinematografico mentre se girassi a 30 che sarebbe lo standard americano mi darebbe già un look diverso mi darebbe un look forse più televisivo se io girassi a 60 frame al secondo mi darebbe un look molto videogiocoso i videogame sono a 60 frame al secondo o superiori perché comunque hanno una frequenza di campionamento che li rende frenetici per permettere al giocatore di seguire meglio l'azione quindi non hanno lo sfocato nel movimento ma sono molto netti molto precisi questa è una cosa ovviamente che ci sta nel videogioco ci sta in quel tipo di contesto perché comunque stiamo giocando vogliamo un movimento fluido abbiamo un bello schermo grande quindi ce lo godiamo appieno per quanto riguarda il cinema è diverso perché nel cinema noi vogliamo creare un mood quindi più che dare una precisione di immagine sul movimento nel cinema vogliamo dare una sensazione e il 24 frame al secondo rispecchia di più quella che è la visione umana come capacità di separazione proprio dell'occhio umano tra un frame e l'altro ovviamente nel cinema questa è una scelta che è stata fatta anche perché una volta c'era la pellicola e quindi girare a 24 frame al secondo significava costi di produzione inferiori rispetto ai 30 frame al secondo però sta di fatto che il look cinematografico è sempre stato basato sui 24 frame al secondo e quindi si tende a continuare a utilizzare quelli con alcune eccezioni perché per esempio mi ricordo che Lo Hobbit di Peter Jackson non mi ricordo se tutti gli episodi o solo l'ultimo però mi ricordo che avevano fatto un esperimento avevano girato l'intero film con una frequenza molto più alta non vorrei dire una cavolata ma forse erano 120 frame al secondo forse hanno girato l'intero film a 120 frame al secondo che è tantissimo è una roba folle anche come peso come ingombro del file finale è una roba assolutamente folle l'effetto finale è una cosa che secondo me se la sai la noti se non la sai non te ne frega niente non te ne accorgerai mai io non la sapevo perché l'ho scoperta dopo averlo visto al cinema però vi assicuro che durante la visione avevo una sensazione strana mi sembrava che le scene fossero tutte in CGI anche se non lo erano cioè anche le scene proprio con gli attori anche un dialogo due attori che parlano con uno sfondo neutro oppure quello sembra girato in CGI perché il 120 frame al secondo girato cioè girato a 120 frame al secondo e poi riprodotto comunque con una frequenza normale quindi non è uno slow motion perché tutti quei frame al secondo si usano per fare lo slow motion però loro invece hanno girato a 120 e poi hanno mandato in play senza fare lo slow motion quel girato con così tante informazioni ti dà proprio la sensazione di finto ti dà la sensazione di videogiocoso ti dà la sensazione che sia tutto riprodotto a computer anche quello che non lo è quindi è un look che noi possiamo ricercare volutamente è una cosa che a me personalmente non piace quindi io tendo a preferire dei frame per secondo più bassi in questa maniera ottengo due cose che ho il look che voglio che è la cosa principale e poi il mio video pesa anche di meno e faccio meno fatica a processarlo quindi ho un duplice vantaggio semplicemente impostando la fotocamera in questo modo per quanto riguarda le impostazioni del mio video io sto girando a 23 frame al secondo all eye quindi ho un formato video di un certo peso perché è un formato che mantiene molte informazioni che mi permette di fare della post produzione non dico invasiva però mi permette di giocare abbastanza con luci ombre e colori per enfatizzare quello che voglio enfatizzare inoltre sto girando in formato C-log è il formato log nativo di casa canon che mi permette in post produzione di nuovo di fare una color grading un pochettino più invasiva ovviamente è una cosa che non si fa sempre lo si fa quando si reputa che ne valga la pena lo si fa se ci si tiene particolarmente al progetto o se si sa che bisogna spingere in post produzione su determinate luci determinati colori perché questo è proprio un formato che mi consente di lavorare di più la mia immagine successivamente è anche un formato che ha bisogno di essere trattato quindi è un formato che io non posso prendere così com'è e sbattere fuori perché è brutto se io prendo il mio girato e lo utilizzo così com'è è brutto quindi io sono costretto a fare la color grading dopo che ho girato in C-log così come tutti i log di qualsiasi altra fotocamera chi più chi meno però sono dei file che sono molto brutti se non vengono trattati sono file professionali che devono per forza essere trattati ovviamente quest'ultimo passaggio non è obbligatorio la cosa migliore è riuscire ad avere l'illuminazione che vogliamo direttamente in camera se volete avere un po' di versatilità in più fate anche questo ultimo step in maniera tale da poter agire un pochettino di più in fase di post produzione per tweakare un pochino e andare a matchare ancora di più quello che è il vostro gusto estetico per quella che è la scena che avete allestito non è assolutamente necessario inoltre non tutte le fotocamere e le videocamere hanno il formato log per esempio io ho lavorato precedentemente con la Canon EOS 80D la 80D non ce l'ha il formato log infatti avevo fatto un video su quell'argomento vi lascio la card anche di questo se state lavorando con una fotocamera come la 80D o comunque fotocamere di quel periodo magari non una mirrorless magari una reflex di un periodo precedente dovremmo comunque avere la possibilità di scaricare il profilo colore cine style prodotto da Technicolor di cui vi lascerò link vari in descrizione ma comunque ho un video dedicato proprio a quell'argomento anche per farvi vedere come si installa sulla fotocamera e via dicendo se noi installiamo quel profilo colore sulla nostra fotocamera o videocamera siamo in grado di acquisire il nostro video in un formato che non è proprio log però ci si avvicina lo simula è un simulatore di log quindi riusciamo ad avere un filmato che poi possiamo maltrattare un pochino in post produzione possiamo fare della color grading e possiamo usare anche una fotocamera vecchia per cercare di capire come comportarci in determinati contesti quindi riusciamo a mettere le mani sul file lavorarlo e capire come funzionano i file log capire come si colora un file log sono esperimenti che io ho fatto appunto sulla Canon EO 70D mi tornano utili adesso perché lì non avevo il formato log ma me lo sono un po' inventato sono andato a vedere che si poteva installare questo profilo colore adesso non c'è più bisogno di fare questo magheggio perché su questa fotocamera sulla Canon EOS R c'è già il formato log finalmente formato log nativo di Canon sulle fotocamere che usciranno nei prossimi mesi sto parlando in particolare di Canon EOS R7 e R10 hanno fatto un po' una via di mezzo perché sulla R7 c'è il C-Log sulla R10 non c'è il C-Log questo me le rende entrambe molto appetibili perché io voglio assolutamente mettere le mani su una R7 perché mi piace mi piace da matti le specifiche le caratteristiche video che ha la voglio assolutamente quanto meno provare la Canon EOS R10 mi piace pure tantissimo per una caratteristica in particolare intanto gira in 4K quindi fa tutte le stesse cose della R7 ma non ha il C-Log quindi la discriminante è questa la R7 ha il C-Log la R10 permette di fare le dirette streaming su YouTube quindi sono due camere che servono due fasce di mercato diverse e mannaggia la miseria io le vorrei entrambe magari non userò mai né il C-Log sulla R7 né il live streaming sulla R10 e quindi non è detto poi che mi serve effettivamente però se avessi la bacchetta magica le vorrei entrambe potrei fare delle cose in più potrei fare delle cose diverse ma sto come sempre divagando io credo di avervi detto grossomodo tutto per quanto riguarda il mio setup una cosa che posso aggiungere per quanto riguarda il backdrop questo è un backdrop di quelli collapsible come si chiamano ed è un backdrop di Kate Backdrops è un'azienda che trovate su Amazon oppure sul sito di Kate Backdrops con cui mi sono trovato molto bene devo dire perché fondamentalmente ti danno una soluzione che è molto portatile perché questo backdrop è un metro e non mi ricordo più è un metro per due metri una roba del genere ed è collassabile nel senso che è uno di quelli che si prendono e si piegano su loro stessi e poi si ripongono dentro in un contenitore a forma di medaglione quindi è facile da portare in giro e non vi dico che è facile da aprire e da chiudere perché non è vero ci sono tutorial su tutorial su come si fanno a richiudere queste cose una volta che si sono aperti non è facile da richiudere bisogna saperlo fare però una volta che hai capito come si fa lo fai non è un grosso problema ci sono i video su YouTube che ti fanno vedere come si apre come si chiude questo affare quindi non è quello il problema diciamo che una volta che hai capito come si fa perché è molto controintuitivo ma una volta che hai capito come si fa poi è facile anche da montare non occupa tanto spazio perché comunque io l'ho montato su uno stand Manfrotto con una clamp e quindi mi occupa pochissimo spazio all'interno dello studio mi dà l'effetto che voglio perché comunque è così che lo voglio mi piace proprio questo effetto di questo tipo riesco per fortuna a non stare appiccicato allo sfondo perché io più mi allontano dallo sfondo più vengo fuori in ripresa se io fossi appiccicato allo sfondo avrei la mia ombra sullo sfondo che è bruttissima e poi lo sfondo sarebbe molto presente perché sarebbe proprio qui dietro invece se più ci allontaniamo dallo sfondo meglio è in teoria vero è che vedo sempre più spesso gente che ripropone casa propria dietro nei backdrop io non lo faccio non mi piace farlo perché non voglio né che vediate il mio letto dietro il mio frigorifero il mio gatto il divano non voglio proporre quel tipo di contenuto facendo vedere casa mia dietro quindi io li faccio in ufficio questi video è una cosa diversa per me come sapete io non faccio questi non sono tanto vlog non sono video lifestyle cioè io non vi sto facendo vedere che cos'ho nel frigorifero oppure come riordino il cassetto dei calzini cioè non è quel tipo di video quindi non me ne frega niente di farvi vedere il mio armadio delle camicie per cui questo tipo di contenuti lo faccio in ufficio e in un contesto in cui non me ne frega niente farvi vedere due monitor dietro che distraggono solo io preferisco un backdrop uniforme così catalizzo l'attenzione e invece di guardare che computer c'è sullo sfondo state attenti a quello che ho da dirvi e tra l'altro io a questo punto credo di avervi detto proprio tutto perché abbiamo preso in rassegna il setup sì l'ultima cosa che vi posso dire è che sto usando un treppiede manfrotto per sostenere la mia videocamera però andrebbe bene un treppiede qualunque io uso manfrotto perché mi piace viziarmi detto questo io credo di avervi dato una panoramica abbastanza completa ed esauriente di quello che è il setup che utilizzo per realizzare questi contenuti che altro vi posso dire vi posso dire che la lente la sto utilizzando circa 50 mm più o meno sì e sto registrando in formato full hd non in 4k vado a fare un upsampling dopo perché non mi piace girare in 4k perché c'è il fattore di crop e quindi preferisco girare in full hd anche perché il full hd della Canon EOS R è più bello rispetto al 4k a parer mio una resa migliore mi piace di più quindi preferisco giocarmela in questo modo anche perché così ho un file più leggero quindi tutto si tiene un bel giorno avrò strumentazione molto più potente avrò una Canon EOS R3 allora girerò in 8k raw e non ci saranno più problemi di questo tipo ma per adesso sto registrando ancora in full hd e dopo vado a esportare in 4k devo dire che il risultato secondo me è molto molto buono per dei video che devono andare online è assolutamente papabile una cosa del genere quindi credo di avervi detto proprio tutto quello che è il mio workflow per quanto riguarda il setup dello studio e le riprese fatemi sapere in un commento se questo tipo di argomento vi interessa fatemi sapere se vi interessa vedere anche quello che è l'editing per un video di questo tipo così riesco anche a tararmi un pochino su quelli che sono gli interessi perché moltissimi mi hanno fatto delle richieste per quanto riguarda il videomaking quindi io parlo molto spesso di fotografia di photoshop di illustrator di videomaking un po' di meno quindi è il momento di dirmelo in un commento se volete più contenuti per quanto riguarda il video e secondo me sarebbe anche il caso Ferrari che ti decidessi a farli perché il mondo si sta spostando più sul video se questo tipo di contenuti vi interessano di più è il momento di farmelo sapere in un commento così so come gestirmi e che tipo di contenuti andare a produrre in modo da fare contenti più di voi possibile ragazzi è stato un piacere avervi qui sul mio canale io vi ricordo di iscrivervi così rimanete aggiornati su tutti i prossimi contenuti lasciate un like a questo video perché sono sicuro che qualcosina avete imparato che metterete in pratica poi nei vostri contenuti se ne producete a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video A presto